In questo ultimo atto del nostro 2023 facciamo un pochino i conti con quello che è stato. È stato un anno faticoso indubbiamente, però che ci ha dato grandi soddisfazioni. A livello formativo abbiamo offerto oltre 250 ore parlando delle tematiche più svariate, dalla contabilità fino addirittura al marketing digitale per il nostro condominio. Si sono vicendati oltre due centri tra professionisti, condomini e studenti e siamo molto felici anche per quello che andremo a fare tra poco. È stato un bell'anno e ringrazio tutti. Buona giornata.